Ciao a tutti ragazzi dei vostri Charmending e Pikuz, sono qui con un brevissimo video dove vi mostro l'apertura della bustina contenente le tre Jumbo compagni di avventura di Galar. Sono andato a prenderle oggi da GameStop e appunto con la promozione che facevano con 20€ di spesa che avrebbero dato in omaggio questa bustina qui e quindi ho detto ma si andiamo a prenderla. Abbiamo le tre carte Jumbo della regione di Galar, dell'ultima, dell'ottava generazione. Abbiamo Grukey, Scorbunny e ovviamente Sobbo, tutte con il logo del 25esimo anniversario dei Pokémon. Molto molto belle, dovrebbero essere le prime carte, cioè i primi artwork dei tre starter per ogni generazione, ovviamente adesso siamo partiti, il 5 marzo sono uscite questi tre starter e adesso si andrà, poi il prossimo mese ci sarà la settima generazione, ogni mese insomma uscirà una generazione. Siamo partiti con i primi, il prossimo mese vi mostreremo la settima generazione, quindi la seconda uscita, sempre con il logo del 25esimo anniversario dei Pokémon. Brevissimo video, giusto per informarvi che stiamo sotto anche con le uscite promozionali dell'anniversario dei Pokémon. Ragazzi lasciate mi piace, condividete il video anche con i vostri amici e informateli di andare a prendere anche queste carte se siete interessati ovviamente alle Jumbo, o comunque a collezionare anche le carte Pokémon del 25esimo anniversario. Lasciate mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Bella raga!